Ok, ragazzi, ci siete, va bene. Ok, oggi ho comprato le carte di Pokémon, spero che non cada ancora sto telefono. Lo metto sulla piattaforma adesso. Non va bene, ok. Allora, ho comprato le carte di Pokémon, sole e luna, questa volta. E non sono le carte di Lion, ok. Voglio provare, come fa Kendal, a spacchettare questo pacco. Se non lo vedo bene, ditemelo nei commenti. Io cerco di vedere se qui si può accendere la luce. Un attimo di aiuto, ecco. E non si può accendere. Quindi non vedrete un cavolo per tutto il video. Vediamo se... No, non si vede, ok. Iniziamo dallo spaccattamento. Le ho pagate 4 euro all'edicola di casa massima. Ok. Questa volta non è molto professionale. Questa è l'immagine. Questa volta non è molto professionale il video, però... Quando mi comprerò un mantenitore di telefoni, forse ce la farò. Eccolo qua. Andiamo allo spacchettamento. Non vorrei rovinare. Dovrò farlo veloce questo video. Perché sono in camera di miei genitori. E... Tampoco mi inizieranno a giurlare per andare a mangiare. Ok. Iniziamo dal primo. Io non li conosco tutti i Pokémon. Comunque se qualcuno non lo conosco... Ehm... Ehm... Niente. Ok. Allora. Iniziamo con... Questo qui che non so... Come si dice il suo nome. Ok, allora. Non è tanto forte, però... Secondo... Ok. Poi abbiamo questo. Che è... Petit Nil. Ok. Che pure lui... Poi... Non so leggere bene le carte. Perché comunque... Sono... È da un po' di tempo che... Non... Guardo Pokémon. Non guardo... Cioè... Che... Non ci gioco. Quindi... Sono un po' arrugginito. Ecco. Ok. Lui... Allora. Poi ci giocherò con il mio amico. Li ho comprati apposta. Poi gli ho detto... Ho visto che le fa... Che è andato lo spacchettamento. Allora... Lui... Lancia una moneta... Se esce testa... Se esce testa... Il Pokémon... Attivo... Del tuo avversario... Viene paralizzato. Wow! Ma... È buono! Tentacol... Poi... Allora... Vediamo... Allora... C'è scritto qua in piccolo... Tenendo l'apparenza... L'apparenza... Mi devo sbrigare... Che sono già le otto... Devo andare a mangiare... Ok... Poi abbiamo... Oricorio... Danza sovrannaturale... Uh... Questo mi attira... Poi abbiamo... Un'energia... Ok... Poi ne comprerò molte altre... Perché... Tantissimi... Ne comprerò di queste... Perché devo... Giocare con un mio amico... Poi faccio... Lo spacchettamento... Delle carte... Quello di... Di Magic... Quando avrò quelle nuove... Posso anche fare... Quello vecchio... Quindi oggi usciranno... Pure lo spacchettamento... Di quelle vecchie... Scambio multiplo... Ehm... Sposta... Un'energia... Da un... Dei tuoi... Pokémon... Ok... In... In panchina... Il tuo... Un attivo... Poi... Sliggo... Cerca nel tuo... Mazzo... Fino a 2 e 5... E mettili nella tua... Panchina... Poi... Mischia le carte del tuo mazzo... Vabbè... Poi leggerò... Uh... Questo qua lo conosco... Perché... Perché... Vabbè... Qualche volta... Quando capita... E qua... Poi c'è la pubblicità... Delle... Dei Pokémon... Allora... Ehm... Poi vabbè... Poi... E questo... Era lo spacchettamento... Delle carte... Dei Pokémon... Che... Mamma mia... È rimasto il dietro... È rimasto... È rimasto... Da un sacco di tempo... Sempre lo stesso... Non immaginavo... Ecco... Allora... Questo qui dovrebbe essere un libricino... Sì... Qua sono scritte delle carte... Adesso vi faccio vedere bene... Delle carte... E quindi... Mia sorella mi sta cercando bene... Ehm... Costano 4 euro... Quindi ne comprerò un pacchetto alla volta... Quando potrò... Ovviamente... E niente... Spero che... Questo video vi sia piaciuto... Compro qua la marca... Che sennò poi... Sembra come se faccio un bluscia... Ehm... Spero che il video vi sia piaciuto... Se vi è piaciuto lasciate un mi piace... E da Oda che è tutto... Ciao... Ragazzi... Oltre alle carte... Che... Ho comprato oggi... Mi sono ritrovato... Quante sono? Due... Tre... Quattro... Cinque... Sei carte... Che... Ho da tempo... Allora... Iniziamo... Queste sono le carte del film... Visto che mia madre... Lavora... Non posso dirvelo... Appunto... Ehm... È vero... Non posso dirlo... Quindi... Allora... Mia madre... Me le ha regalate... Per il mio compleanno... Praticamente... Ehm... Questo qui è... Magi... 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 Carp... Ok... Ehm... Ancora questo Pokémon... Da... Da dieci d'anni... Da dieci d'anni... Da dieci d'anni... Vabbè... Ehm... Comunque... Ragazzi... Non si vede bene... Ed ecco... Adesso ve lo cerco di far vedere bene... C'è tipo questo fascio... Bello di... Di... Questo fascio bello... Punto... Ehm... Ha la faccia di Pikachu... Ehm... Per chi non ha visto il film... Non vi spoilerò niente... Ok... Allora... Metti a fuoco... Schifoso telefono... Io si... Faccio il video col telefono... Ok... Che stavo dicendo... Ehm... Beh... Per non perdere tempo... Abbiamo... Char... Charmander... Che bello... Pensavo che forse... Char... Charizard... Ma è Charmander... Charizard... Che bello... E niente... Spero che... Finalmente... Posso dire che questo video vi sia piaciuto... Qua abbiamo un altro Detective Pikachu... E niente... Io... Vi saluto... Ehm... Guardate che bel... Ma... Tu che accente... Che bel mazzo di carte... Mamma mia raga... E comunque... Comprerò le scatolette da collezione... E poi farò dei video... Il fatto che stanno 12 euro... Non è colpa mia... Però le comprerò e... Fare un video di spacchettamento... Ok... Ciao ragazzi!